Chiara Civello a Festa Ambiente Sud, da ospite a direttrice artistica di questa manifestazione. Un passaggio interessante, è avvenuto così molto naturalmente dopo aver cantato qui. Franco mi ha chiesto di collaborare alla curatela del festival per quanto riguarda la programmazione e l'invito di artisti. E' stato per me un passaggio molto interessante che comunque non mi fa lasciare la parte di performer che rimane sempre vitale per me. Ma è molto entusiasmante avere questa opportunità di partecipare un po' alla cultura del nostro paese senza sentirsi in qualche modo di dover rispondere a un'esigenza di un sistema. Diciamo che è bello poter scegliere liberamente. Quest'anno mi sono concentrata molto sull'idea di coesistenza di influenze musicali su uno stesso palco. di coesistenza tra realtà, tra discipline diverse, la parola e il suono. Il suono e la danza, la percussione e la parola. Il silenzio, in fondo secondo me tutto è possibile. È possibile sonorizzare una foresta, è possibile far ballare una marina o far cantare un tramonto. Questo è quello che mi piace di questa nuova avventura per me.